E' Raffaele Cantone il nuovo procuratore di Perugia, vi ricordo che è stato ex presidente dell'anticorruzione. A favore di Cantone hanno votato diverse toghe progressiste di aria e laici di tutto lo schieramento politico. Ed è la prima volta che accade in questo CSM, Consiglio Superiore della Magistratura. Il candidato di minoranza, il procuratore del giunto di Salerno, avrebbe invece ottenuto il sostegno dei togati di autonomia e indipendenza e di magistratura indipendente. Astenuti invece i togati di unità per la Costituzione. Insomma, Raffaele Cantone è il nuovo procuratore di Perugia, la città capoluogo della regione Umbria. Aspetta dunque a lui un ruolo importante, azzardo a dire di rilevanza importante, ripeto. Per quanto riguarda tutta la regione in questione, il gioiello verde dell'Italia, il polmone verde dell'Italia. Un salutore caro da Leandolo, tanti auguri di buon lavoro a Cantone. Questo video non vuoi redere la sua privacy né di altre persone, ma informare basta. Nasce solo per questo motivo, non per altri ragioni.